Questo è il mio programma e c'è dentro la chiusura dell'area a caldo. Il mantenimento dell'area a caldo della ferriera di Servola è stata una scelta dell'attuale sindaco Cosolini e di tutte le amministrazioni di centro-sinistra che sono responsabili, assieme agli enti di controllo coinvolti, da aver prima svenduto un'area di enormi dimensioni di importanza strategica sul mare e poi concesso a tutte le autorizzazioni necessarie al proseguimento di un'attività produttiva inquinante e che di fatto blindano l'azienda, favorendola anche con una concessione trentennale della banchina sebbene in assenza di un terminalista certo, come richiesto dall'autorità portuale di Trieste per altre realtà. Si è espresso così il candidato sindaco del centro-destra Roberto Di Piazza accettando l'invito del comitato 5 dicembre a partecipare ad un incontro pubblico di confronto sul tema della ferriera. Anch'io ho fatto la visita l'altro giorno con la quarta commissione consigliare allo stabilimento siderurgico. Secondo la mia opinione l'area a caldo va chiusa. Oggi ho spiegato al comitato che sono sempre dell'idea che va chiusa. Naturalmente c'è anche l'opportunità adesso del laminatoio per cui i posti di lavoro si salvano. Chiudiamo questo cancro una volta per tutte. Roberto Di Piazza è il secondo candidato sindaco ad aver risposto all'invito del comitato 5 dicembre ad un incontro pubblico sulla ferriera e l'ospicio degli organizzatori e che anche tutti gli altri aspiranti alla poltrona di primo cittadino si rendono disponibili al confronto. Pensiamo che sia nostro dovere permettere ai cittadini di farsi un'idea il più possibile precisa su quelle che sono le posizioni dei candidati sindaco sul tema della ferriera e soprattutto come intendono risolvere la questione dell'area a caldo. Quanto emerso dall'incontro di ieri di Seracchiani in Siderurgica Triestina sia qualcosa di veramente scandaloso. Al termine dell'incontro il comitato 5 dicembre ha annunciato una nuova manifestazione ed un corteo per domenica 22 maggio con partenza alle ore 17 da Foro il Piano che si concluderà in Piazza dell'Unità.